Giacomo Zicca è ufficialmente un nuovo giocatore del Teramo, l'attaccante di proprietà della Sassuolo arriva in bianco-rosso in prestito per un anno, trattativa conclusa ieri pomeriggio quando anche la società nero-verde ha dato la via libera alla partenza del ragazzo firmando i documenti per il trasferimento a titolo temporaneo del 21enne che può ricoprire più di un ruolo nello scacchiere avanzato del diavolo. Dunque a pochi giorni dall'inizio del ritiro quello che non manca certamente a Zichella sono gli attaccanti perché con Fratangelo e Bacio Terracino confermati dalla passata stagione con il ritorno di Riccardo Barbuti la batteria di prima linea ha già visto gli arrivi di Luca Di Renzo, Gianmarco Piccioni e per l'appunto Giacomo Zicca. Certamente per sostenere il tridente che ha in mente l'allenatore servono parecchi elementi ma la sensazione è che presto o tardi lì davanti qualcuno debba partire. Barbuti è l'indiziato principale visto che gli altri o sono nuovi acquisti o sono ponderati con ferme dell'annata appena alle spalle. Dunque l'ex Gavorrano è quello che Federico dovrà cercare di piazzare quanto prima di offerte non ce ne sono al momento per questo la sensazione è che si potrebbe imbastire uno scambio con il Teramo che si farebbe carico della differenza di stipendio con l'altra società avendo però in cambio una pedina più adatta al completamento della rosa quindi la possibilità di risparmiare è ridotta davvero all'umicino. L'unica via d'uscita è quella di arrivare ad un giocatore diverso visto che in attacco c'è la fila. Ad esempio tra i pali ruolo per il quale il direttore sportivo Bianco Rosso sta lavorando da qualche giorno e che potrebbe arrivare già nella prossima settimana. Il dubbio pare essere stato sciolto ad affiancare Lewandowski tra i pali infatti sarà un profilo esperto ma stavolta la ricerca sarà meticolosa perché il Teramo vuole evitare che si ripeta quanto accaduto con Marino Bifulco arrivato dal Monopoli a gennaio proprio nello scambio con il polacco. Per questo Federico sta vagliando alcune possibilità. Nelle prossime ore il cerchio potrebbe stringersi per chiudere definitivamente il discorso in porta.